Qualche cosa mia Dove la posso andare a pescare Dove la posso pescare qualcosa mia Su un hard disk Fammi vedere Adesso la domanda è JDCHDD Eccolo qua File Nokia N73 Io mi mettevo le foto Se volete un video parlo Aiutami No Allora E' perché ero io che strozzavo Un mio amico Aspetta No no Sì mi dissocio Ma cosa Ma non è ma raga Ma è per ride Eravamo io e un mio amico Che facevamo a botte E lui faceva Cioè a botte Faccevamo tipo Pum 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 Ma sì ma mi dissocio Ma che per ma raga Cioè ridere Ridere Cazzo Andre Fino Mi ricordavo sti video Cos'è questo Voglio Non voglio inculare un cane No 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 Non è vero Non è vero Aspetta no 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 no